Alla presenza dell'assessore Giuseppino Tommasielli, stamattina in sala giunta conferenza stampa per l'Assemblea Concerto che si terrà sabato 22 ottobre dalle 20.30 al quadriglio di Secondigliano. Promossa dalla Federazione Regionale Unione Inquilini, si unisce alle altre che vogliono contribuire a liberare i territori dalla Camorra e creare sviluppo e lavoro nell'area nord di Napoli. L'Assemblea verterà appunto sui temi della criminalità organizzata, mentre al concerto prenderanno parte i Sesi, A67 e compagnie altro canto. Mi sembra importante, questo lo dico come libera, legare la lotta contro la criminalità organizzata, contro la cultura della violenza e della sopraffazione a un momento invece di dimensione di prospettiva di carattere culturale. Credo che sia una strada importante che traccia il comune di Napoli con il sindaco De Magistris per essere vicino alle persone ma anche utilizzare lo strumento della cultura come momento di mobilitazione sociale, di presa di coscienza e di reazione.